Torna ad animare il Centro Storico di Pordenone il Festival di Divulgazione e Comunicazione Scientifica Scienza Art Ambiente per un mondo di pace. Con il titolo Mondi in Muta, dal 16 al 20 ottobre 2013, proporrà 46 ospiti per anteprime editoriali, incontri, laboratori, seminari, visite guidate, mostre interattive, multivisioni e molto altro, per tutti i gusti, età e provenienza. Chiara Sartori, che cosa sono i Mondi in Muta che quest'anno sono il focus di Scienza Art Ambiente? Il mutamento, la muta è una categoria tipica della biologia, quindi coinvolge anche noi esseri viventi del genere umano. Cambiamenti non sono solo biologici, sono anche tecnologici. In particolare in questi tempi la tecnologia propone con forza una rivoluzione antropologica di comunicazione, di relazione tra le persone. C'è quasi un kit di sopravvivenza che il Comitato Scientifico ha voluto aprontare in questa edizione di Scienza Art Ambiente proprio per rivolgere metaforicamente ma anche direttamente a scienziati, filosofi, tecnologi e chi con la rete e le nuove tecnologie lavora proprio dilemmi che sono morali sull'uso delle tecnologie. Assessore Claudio Cataruzza, anche quest'anno ci ritroviamo sotto un bellissimo cielo di ombragli rossi per parlare di scienza e per parlarne a tutti e con tutti. È una manifestazione che sta ottenendo un crescente successo nel tempo tant'è vero che alcuni appuntamenti che hanno coinvolto le scuole ci hanno costretti a cambiare la sede quindi andare da una sede più piccola al Teatro Verdi scienza portata di tutti, come si diceva, e dialogo soprattutto a discipline diverse è quello che è un po' la peculiarità di questa manifestazione che suole ormai interpretare e anticipare quello che è il futuro.